Non siamo partiti benissimo, veniamo malmenati, direi, dagli avversari. Quello fu il momento in cui Lippi ci prese e ci disse, non me ne frega, più un cazzo. Io non voglio vedere una squadra passiva. Se sei un grande giocatore vai in una grande squadra e devi vincere in questa squadra, perché se sei un grande giocatore vai in una grande squadra e non vinci, allora la tua carriera perde di significato.